Tutto inizia in una qualsiasi mattina londinese, prendo la metro e mi dirigo verso Notting Hill. Ok, sono arrivata, questo è il portone dove devo andare. Sono entrata in una specie di favola alla Maria Antonietta. Entro praticamente nel set di un film in costume, ci sono parrucche, quadri, accessori e un afternootie stile Versailles. Quindi niente, oggi sceglierò uno di questi costumi e farò la Maria Antonietta in giro per Londra. Ci siamo, è arrivato il momento della vestizione, adesso vi faccio vedere il vestito che ho scelto. Ragazze, ho scelto il verde, questo verde esmeralda e oro mi piace tantissimo. Ok, ho il mio vestito addosso, sono una perfetta Maria Antonietta. Ho scelto questo verde e oro che mi sembrava molto bello e adesso proverò anche la parrucca. E poi andremo in giro per Londra. Royal Day Out è un'idea di Lauren e Max che si dichiarano nati nel secolo sbagliato. Appassionati del diciottesimo secolo hanno creato questa esperienza che offre una giornata in costume in giro per la Londra più romantica. Si inizia con la scelta dei costumi, un afternootie e poi c'è un giro tra Notting Hill e Kensington Garden. Come mi sta la parrucca? Mi sento un'incrocio tra Madonna degli anni Ottanta e Maria Antonietta. Tutti i costumi sono ispirati a film come Maria Antonietta e The Duchess. She's my friend Ruby. Guardate che bello anche il suo vestito. Pocahontas meets Maria Antonietta with his hair. It's so beautiful. Abbiamo chiacchierato un po', bevuto champagne e il nostro afternoon tea e niente, con quest'outfit addosso è stato impossibile trattenerci dal ricreare qualche scena del film Maria Antonietta. So we're going and we also have a picnic basket. Camminare per le strade turistiche di Notting Hill è stata forse la cosa più divertente e assurda e tantissime persone, inclusi i bambini, ci hanno fermato per fare foto e salutarci. Allora adesso siamo a Notting Hill e stiamo facendo questo giro. È abbastanza imparazzante perché ci guarda tutti, ma insomma, c'è una nottina turistica. Me la sto parlando abbastanza bene in nottrici. Due cose che mi sono piaciute tantissimo. La prima è che Max fa il fotografo, quindi ci ha scattato tantissime foto durante l'esperienza. E la seconda è che loro abitando qui conoscono benissimo il quartiere e ci hanno portato veramente negli angoli più belli e davanti alle porticine più fotogeniche della zona. La nostra ultima tappa sono stati i Kensington Gardens e anche questa zona, non so se avete presente, ma ricorda tantissimo il film di Sofia Coppola. È lì, tra un cesto da picnic e un altro bicchiere di prosecco vestito da principesse, ci siamo veramente sentite in una favola. Cosa, c'è una criatura? Cosa, c'è una criatura? Cosa, c'è una criatura che si piace e ha tutti i tutti. so we're just back did you enjoy your princess day a royal day absolutely i feel very royal get all the attention so how many people did they followed us hundreds we were like celebrities never do us for a day okay i recommend it and so we're back to our normal semblance but it's a beautiful experience that I recommend you to make if you like this style and that I really don't forget I thank you for watching my video I recommend you subscribe to my channel and see you next time